Ho vissuto sette anni in un villaggio berbero, quindi lì l'asino è ancora considerata la macchina, l'auto per eccellenza, oltre che per gli spostamenti anche per i lavori. Oggi è famiglia. Tutti gli animali che sono in fattoria poi fondamentalmente sono parte della famiglia e sono dei compagni di vita. L'amore per gli asini è nato anni fa nel lontano Marocco. Adesso a far parte della famiglia ci sono Mina, Colmo, Mirto e Neva, quattro splendidi esemplari. Super socievole e molto sensibile, oserei dire anche forse più dei cani. Gli asini hanno un'attenzione ancora più profonda, secondo me. Vanno saputi guardare, perché se fai una vita frenetica e non stai attento a quello che ti stanno dicendo, magari non lo vedi. Ma la loro sensibilità è profonda, tanto che sono loro spesso che scelgono a chi andare vicino. A Sansevero nel 2021 è nata la fattoria in cammino, a far compagnia agli asinelli, galli, galline, cani e gatti. Elena Palazzini dopo aver girato il mondo, infatti ha deciso di tornare nella montagna dove era cresciuta. Questo luogo esiste grazie ai miei genitori, perché mio padre da quando è andato in pensione si è dedicato completamente a questo luogo. Quindi era abbandonato, insieme a mia mamma hanno ricostruito questo piccolo paradiso e poi ovviamente sono arrivata io con tutta la parte degli animali. E per me ormai è questa la vita. Da qui la nascita della fattoria in cammino, dove è possibile vivere tante esperienze immerse nella natura e nella poesia. Perché cerchiamo di riportare gli umani in natura con diverse esperienze, sia dai piccoli che dai grandi. Tutti ne abbiamo bisogno in realtà, di riportare i nostri piedi alla terra, di ricreare questa connessione che un po' abbiamo perso con questo stile di vita. Siamo un bosco didattico, quindi per tutte le esperienze con i piccoli, dal bosco didattico poi passiamo alle visite guidate anche in fattoria. Quindi come è la nostra vita qui e varie esperienze anche con le passeggiate con gli asini per riscoprire proprio l'Alpe di Poti. La volontà anche di far tornare a vivere un luogo dimenticato della storia eretina. Quindi pian piano si è creata una comunità, soprattutto a San Severo diciamo, perché l'Alpe di Poti già è un'altra realtà. Quindi San Severo pian piano si è ripopolata, abbiamo riportato alla luce anche tutta la parte storica di questo luogo importante e quindi cerchiamo anche tutti insieme, oltre che come fattorie individuali o privati, a riportare un po' di equilibrio e di pace insomma anche in questo luogo. Grazie. Grazie. Grazie.